Ciao Maurizio Allora, taglia M La piatta che è taglia dopo Taglia M Ok Numero 23 Numero 53 53 Il numero 75 Il numero 75 Il numero 75 Allora 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 75 Taglia M Buongiorno M Numero 113 E tra un po' passeremo alle S Il 5 Dello Gervante Che contatto Che lo giuseppe Numero 11 Rippo Ok Poi passiamo al numero 32 Sperto Numero 27 Numero 27 Numero 5 15 15 Numero 15 No, è sincero M M L L No ragazzi Mi dispiace L 92 92 Numero 22 22 22 Ok C'ho la L Mi dispiace Prego 65 65 65 Ok Ok E non ce li ho Non ce li ho No Mi dispiace Numero 43 Nero Ok Allora Mi sono politico Per le 20 M Il massimo 20 Che c'è quest'anno Che è a Sparta Il numero 85 Non lo so Sto cercando Sto cercando Sto cercando Sto cercando Sto cercando Samu C'è Non ce li ho Trovato il numero No Aspetta Che l'ulta L Perché l'ulta Il numero 25 Mi dai un paio Di pantaloncini No Non ce ne è che l'M Mi dispiace Ragazzi Quello che c'è No L Aspetta Che c'è Il numero Guarda Quella lì Di questo Quello dei bambini Sì Il numero 110 Il numero 124 Vabbè 102 Possibile Sette No Perché l'ho scritta Un po' Ma No Il numero 121 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